Buongiorno, nuova edizione di Mattino 6, mercoledì 28 agosto 2019, pronti per sfogliare Le pagine dei quotidiani locali e nazionali, partiamo dai locali e dalle prime pagine, subito le quattro edizioni del centro, qui siamo sull'edizione di Pescara, l'apertura, ospedale, ecco il piano di rilancio, interventi al pronto soccorso, all'ospis e nelle sale operatorie E poi alla crisi di governo, sotto la testata governo, il rebus dei nomi, trattativa tra PD e Movimento 5 Stelle sul conte bis, Di Maio, l'esecutivo sarà votato su Rousseau E poi le reazioni dal colle, Mattarella avverte, intesa piena, oppure si vuota E poi Abruzzo, ecco 29 opere incompiute, sono costate 30 milioni, poi le vedremo in pagina 2 A centro pagina la foto notizia, stop ai cantieri Lumaca, ripartono i lavori stradali in mezza città, più tardi nel corso della nostra rassegna ascolteremo le parole dell'assessore comunale Luigi Elbone Mascia Pescara dopo il vertice tra l'assessore Mascia e i tecnici, appunto stop ai cantieri Lumaca E poi ancora i richiami a Pescara senza patente in veste anziano sulle strisce Sempre a Pescara, a settembre d'annunzio l'impresa di Fiume, 9 giorni di eventi A Montesilvano, pineta chiusa per il concerto di Giovanotti E poi in taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, se basta un click per cancellare la colpa nell'epoca appunto dei social Andiamo avanti, siamo sull'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro Notte di droga e furti all'asilo nito, questa è l'apertura Chieti, tossicodipendenti spaccano le porte e lasciano siringhe e birre E poi ancora a centropagina, siamo a Lanciano, piazza Plebiscito, gremita per lo spettacolo Il volo dei falchi incanta il pubblico nella settimana medievale E poi i richiami, la cronaca a Ortona, ladro discuter arrestato grazie ai bagnanti A Lanciano, mercato coperto, la ASL dice sì alla riapertura Invece a Torino di Sangro, vigna distrutta al consigliere, il paese in aiuto Andiamo ora sull'edizione terramana del centro, l'apertura più tecnici per la ricostruzione Assegnati 30 ingegneri, invece di 20 soddisfatti il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto E il presidente della regione, Marco Marsiglio E poi in taglio medio la fotonotizia Tornano al lavoro gli operai della Celta in Cassa Integrazione L'azienda in crisi nel comune di Tortoreto E poi a Teramo la cronaca Operaio cade da una pedana ed è in rianimazione nel carcere di Teramo Chiusa la sezione che ospita le madri detenute A Giulianova, musica e cucina al porto con prima secca Andiamo avanti sull'edizione di L'Aquila del centro Tutti in fila davanti alla Porta Santa L'Aquila oggi apertura in messa con le maggio Dopo il corteo storico E poi ancora la fotonotizia Antonio l'arciere cieco che va alla conquista del titolo italiano La storia di una passione nella marsica I richiami di cronaca Incidente a Gioia dei Marsi Grave 66enne avvolto dalle fiamme Avvolto in casa dalle fiamme Riserva di pettorano Colpi di fucile contro i cartelli Salva animali E poi scavi a Carsoli Gli archeologi scoprono tesori di 2000 anni fa Andiamo sull'edizione Andiamo su e cambiamo dunque testata Sulla prima pagina del messaggero Abruzzo Ecco qui l'apertura Pescara è la città dei cantieri L'ospedale Ampliamento del pronto soccorso Parte il conto alla rovescia Per la fine dei lavori Fibra ottica in centro Iniziati gli scavi in via Venezia La messa in posa Durerà fino a marzo E poi tre richiami sotto la testata Intanto l'incidente avvenuto a Barete Ucciso dalla rampa del camion Il fratello finisce sotto inchiesta A Montesivano Giova Beach Party L'installazione del palco inizia domani Poi lo Sport Serie B Il Delfino aspetta i rinforzi Matos e Gabbia sono in polla Centrocampo nel Mirino Valsania o Pessina dall'Atalanta Urgono tre innesti rapidamente L'ex Epifani avvisa Ecco i segreti del Pordenone Dire la verità Pessina ha firmato per il Verona Dunque non può essere più un obiettivo del Pescara In dispalla Zafferano Vino e mortadelle I souvenir delle vacanze Indagine di Coldiretti Sui prodotti più gettonati dai turisti In taglio medio La foto notizia perdonanza Sfila il corteo storico Oggi l'apertura della Porta Santa Sempre in taglio medio Incontro al Ministero La Luna Dauno Tiene il sostegno A Teramo soddisfatte le richieste dei genitori Ma dopo due anni Nostra figlia è regredita In taglio basso A Roseto La nuova vita della cagnolina Zora La prima pagina della città Quotidiano della provincia di Teramo Che apre così aumentati i fondi della ricostruzione L'USR di Teramo passa dal 10 al 15% del totale Più tecnici per gestire le pratiche del sisma E poi sotto la testata Salvi i finanziamenti a rischio per i ritardi Sisma pericolo scampato per tre scuole materne E poi la foto notizia a centropagina Nuovo corso Tutto il mondo è paese A Udine Impresa teramana con gli stessi problemi di Teramo Ripreso il cantiere del restyling Altri 150 giorni per sistemare i due corsi di Teramo Poi una serie di richiami Intorno alla foto notizia A Roseto degli Abruzzi Tarsu e Tari Non pagate 100 mila euro di ingiunzioni Ad Alba Adriatica Minimarket di Coca e Fumo Arrestato un 32enne E poi a Prati di Tivo Iniziata la posa degli Obelx Le campane Anti-Valanga A Giulianova A A A A Cercasi Amministratore per Giulia Rete E poi in taglio basso Intanto per il fronte Teramo Calcio Tempo scaduto per Capitan Speranza Che non rientra più nei piani biancorossi Fumetto d'autore di Gian Domenico Alla mostra del cinema di Venezia Con la graphic novel Leone Cambiamo ora l'argomento Perché andiamo a vedere le prime pagine Dei quotidiani nazionali Quindi apriamo questa ampia parentesi di mattino 6 Come sempre con il Corriere della Sera PD Movimento 5 Stelle Trattativa a ostacoli Conte Zingaretti al lavoro Ma i Dem di Maio insiste per la vicepresidenza Così salta tutto E poi ancora in taglio medio La fotonotizia L'ex bambino della vita è bella Vado a cercare fortuna in America Giorgio Cantarini Oggi ha 27 anni Qui all'epoca del film E qui ora E poi di spalla Chef morto Due i complici La donna fermata 24 volte Andiamo avanti Siamo sulla prima di Repubblica Rieccolo Pronto il conte bis L'incarico tra oggi e domani Sta per nascere il governo giallorosso L'ultimo ostacolo rimasto è Di Maio Vuole per sé vicepresidenza e difesa Ma il voto su Russo deciderà tutto E poi ancora una serie di richiami a centro pagina I piani per la manovra in deficit Ecco come si può arrivare al 3% Quei ministri 5 stelle con Salvini Fermiamo 101 migranti E poi in basso a 22 anni dalla morte L'EDD l'autista cancellato dalla storia Il concorso e le proteste L'aspirante preside è un po' somaro E poi il via al festival del cinema Giulia Andrews, Grazia Venezia, la star sono io La prima pagina del messaggero Avanza Conte Scoglio Di Maio Il PD apre il premier ma boccia Il capo del Movimento 5 Stelle come vice Palazzo Chigi e l'ipotesi senza numeri due Oggi consultazioni finali Forse domani l'incarico L'assist di Trump L'avvocato può farcela Spero resti Sotto la testata Intanto calciomercato Tra mercato e derby Le 5 giornate del DS Petrachi Per completare la rosa della Roma E poi mostra il via Star di Hollywood Jagger e Ferragni Venezia si scopre Cine influencer E poi ancora in taglio medio Tra caos dei gruppi E richiami di Grillo Tiro incrociato alla leadership di Luigi E slitta il voto di Russo sul governo E poi ancora in taglio medio La foto notizia Bolsonaro a Macron Pensi a Notre Dame Amazzonia Il presidente Bastiliano Diceno Ha 20 milioni di aiuti Del G7 Sempre in taglio medio Rifiuti Piano fallito a Roma L'emergenza durerà fino al 2020 Nessuna misura strutturale Flop dei trasferimenti all'estero Dalla regione Una ordinanza Di proroga Andiamo avanti Siamo sulla prima del mattino La mossa di Conte No ai vice Il premier Verso il secondo mandato Il PD contro Di Maio Numero 2 Ma i 5 stelle resistono Passi avanti sugli obiettivi di governo Oggi consultazioni finali Tra stasera e domani L'incarico Sotto la testata Il caso La guerra di Capri Ai pirati del rumore Il flop dei controlli E poi A centropagina La fotonotizia Lozano Il monello del gol A Napoli Per fare la storia Datemi subito La Juve Ha detto nel corso della presentazione Il messicano Irving Lozano Rinforzo appunto Del Napoli Andiamo ora sulla prima pagina Del tempo Con questa apertura particolare Toninelli Una lavastoviglie d'oro Altro che Tav Gronda Il ministro impazzisce Con gli elettrodomestici Nella sua foresteria Si è rotta la lavapiatti Riparatata per 1300 euro A luglio si rirompe pure il frigo 1600 euro Poi il tempo di Oscio A centropagina Movimento 5 stelle PD Si sposano Ma litigano sulle poltrone Noi vogliamo L'Alsazia e la Lorena Se no salta tutto E poi Di spalla Mancano voti Torna L'incubo Senatori A vita I numeri Del nuovo governo Nel bollettino Della crisi Del governo stesso La prima pagina Della stampa Conte Prova a fare Il governo La patria Decisiva La partita Decisiva È su Di Maio Questo è il titolo Di apertura Della stampa Alta tensione Fra i leader PD E del movimento 5 stelle Il grillino Insiste Io vice premier Sull'intesa Decide Russo Mattarella Gli affiderà L'incarico Avrà una settimana Per la squadra La Lega Esecutivo Contro gli italiani E poi In taglio medio C'è la fotonotizia Mastronardi Deneuve Binoche Le dive Incantano Venezia Andiamo sulla prima pagina Di Libero Grillini Da Vergini A Escort Si concedono A pagamento I 5 stelle Pur di governare Si snaturano A ragione Lameloni Sono diventati Il tonno Della scatoletta Che volevano aprire Entrati in politica Come puri In dieci giorni Sono passati Dal letto Della Lega A quello del PD E Di Maio Non contento Alza il prezzo Fino all'ultimo E poi La fotonotizia Centropagina La vendetta Di Renzi Il migliore Dei peggiori Alla riscossa Sempre in taglio Medio Dai nemici Di Salvini Aspettiamo Fallimenti rumorosi Leader del Carroccio Ora il Viminale Provino A fare meglio Di me La prima pagina Del manifesto Che apre così Taglio Del poltrone Dopo una giornata Caotica Conte sblocca La trattativa Con Zingaretti Togliendo il Viminale Di Maio Che insiste A voler occupare Anche la vicepresidenza Ma lo molla Anche Grillo Oggi In giallo verde Contro la nave Eleonor Salvini Ottiene la firma Dei due ministri Cinque stelle La prima pagina Del fatto Quotidiano Il governo Delle differenze E diffidenze Alta tensione Di Maio Incastle Il sì di Zinga Conte Che ora guida Le danze E insiste Col PD Sui due vicepremier Grillo Spinge Il col Darà più tempo Qui i protagonisti Di questa partita Con il premier Uscente E magari Chissà Anche 5 teste In questa raffigurazione In prima pagina Del fatto Quotidiano Andiamo ora Sulla prima Del secolo Che apre così Governo Thriller Zingaretti All'attacco Di Di Maio A notte fonda Il PD Scopre di fare La ruota Di scorta E poi Tre richiami In taglio basso Meloni Rubano il governo Come ladri Incappucciati Poi Trenta E Toninelli Ira PD Da ministri Del Movimento Cinque stelle Noa ONG Ho bendato L'americano Dava testate A muro E PC Una testimonianza Sul giallo Di Roma Appunto Di questa Estate Andiamo Ora Sulla prima pagina Della verità Che Apre così Verso L'esecutivo Dei senza vergogna Il governo Delle poltrone Viventi La trattativa PD Movimento Cinque stelle E al dunque Oggi dovrebbe Nascere il conte bis Prima vittima Nicola Zingaretti Il segretario Ha subito L'intesa Imposta Da Renzi A posto Vetti Che sono stati aggirati E si è dovuto arrendere Lui è finito Gli altri dem Incassano Spartizione Dei posti In tempi In tempi In tempi da record Mattarella Aspetta La lista Dei ministri Stasera E poi La fotonotizia Ha fatto fallire La copp dei pomodori Va all'agricoltura Oppure allo sviluppo Il riferimento Appunto È a Paola De Micheli E poi In taglio Medio Tutto il nord Passa all'opposizione Mai successo Nella storia Della Repubblica Un eventuale blocco Grillini Sinistra Priverebbe Di rappresentanza A Roma Sei regioni Tra le più ricche E popolose Proseguiamo E siamo Sulla prima pagina Del sole 24 ore Che apre così Lo spread Chiude in calo A quota 184 Meno 23% Da inizio crisi Il differenziare BTP Bund È sceso Di 56 punti Dalla caduta Del governo Ieri La borsa di Milano È salita Dell'1,52% Risultando La miglior piazza europea Giù Il prezzo Dei CDS Il costo Della Polizia Italia Ora diventa Meno oneroso E poi La fotonotizia Gli effetti Dell'intesa commerciale CETA Canada L'export italiano Cresce Del 12% E poi ancora Governo Verso L'incarico A Conte IVA Cuneo E 80 euro Nel programma Nell'agenda Della manovra Un piano famiglia Per i redditi Più Bassi E andiamo a chiudere Questa ampia parentesi Dedicata ai quotidiani nazionali Con La testata dell'avvenire Che apre così Conte Avanti Piano Trattativa complessa Dopo il rischio di rottura Su Di Maio Come vicepremier Pretese Vetti Vetti Aperture Oggi Mattarella Incontra PD e 5 Stelle E decide l'incarico Convergenza Su famiglia D'economia sociale Trump sostiene Il presidente Del consiglio E poi la fotonotizia A centropagina Altro naufragio Molti dispersi E ritorna Il blocco Alle ONG Forse 40 morti In Libia E da Salvini E 30 Nuova chiusura Dei porti E poi Sempre in taglio medio Sentenza USA Maxi Multa Alza il velo Sulla droga Antidolorifici Che danno Dipendenza E uccidono Lasciamo i quotidiani Nazionali Torniamo ora Sul centro Andiamo a sfogliare Le pagine interne Del quotidiano Regionale Ecco qui Siamo In pagina 2 Le 29 Opere mai finite E costate 30 milioni L'elenco Ufficiale Stilato Da Mitterregione Da Palazzo D'Achille A Chieti Al villaggio Del fanciullo Di Silvi E la strada Terramana In costruzione Dal 1974 E poi ancora In testa Per entità Della Somma Impegnata C'è la sede Dell'Ater di Chieti Da destinare A casa dello studente Che ha richiesto 4,5 milioni Ma ora È nel degrado La RSA Di Ripatiatina È uno scheletro Di cemento E laterizi A pescare All'ex casa Di riposo Di Viara Pietra Secondo il ministero Ha già polverizzato 750 mila euro E poi ancora Lo Stato Fa cassa E il demanio Mette all'asta Ex carcere Ed ex convento A San Valentino Risiduto Di pena Abbandonato Offerte A partire Da 855 mila euro Ne assumona Il logo Religioso medievale Messo in vendita Per 741 mila euro Il primo È Immerso Nel parco Nel parco Nel parco Della Maiella Mentre l'altro È nel centro storico Della città Ovidiana Andiamo avanti Pagina Abruzzo Argomento Giovani E occupazione Cuochi Corsi A costo zero Per trovare Posti di lavoro Le elezioni Prendono in via Il 30 settembre A Chieti È previsto Un test In ingresso Gian Giulli Di confartigianato Dice L'iniziativa Per offrire Opportunità Ai ragazzi E poi Di spalla Verso la protesta Di settembre Trasporti pubblici La CISL Spiega I motivi Dello sciopero Ora Siamo sulle pagine Di Pescara Ospedale Servizi Più efficienti Scatta Il piano Di ristrutturazione Dal nuovo Pronto soccorso Alle sale operatorie Dagli esami oncologici All'ampliamento Dell'ospis E con gli interventi In programma Fino al 2020 Per rendere La struttura Sempre più Moderna E poi Le parole Del direttore sanitario Fortunato E del manager Mancini Dopo aver trovato I fondi È stato promosso Il bando E a giorni Si procederà All'assegnazione Infine Cominceranno I lavori L'appalto Come leggiamo Da 14 Milioni Di euro Proseguiamo Nuove opere Ecco il programma Mascia Sblocca I cantieri Lumaca Ripresi I lavori In mezza Città Un vertice Tra l'assessore E i tecnici Del comune Per far ripartire Gli appalti Fermi Da alcune settimane Entro ottobre Saranno pronte Via Rigopiano E via Del santuario Resta fermo Invece Il parco Dello sport In corso Il secondo lotto Sulla rivera sud L'intervento Si concluderà A metà Settembre Avanti ancora Siamo Alla cronaca Senza patente In veste Anziano Sulle strisce Paura In via Leonardo da Vinci Il pensionato Di 82 anni Ricoverato in ospedale L'automobilista Era stato Già fermato In passato Sarà Denunciato Avanti ancora Siamo ad un'altra Apertura Di pagina Vigili urbani Cinque candidati Per il posto Di comandante Spuntano Altri nomi Per la sostituzione Di Maggitti Che resta comunque in corsa L'ultimo pretendente Arriva dalle marche Io ho un curriculum Eccezionale Qui abbiamo una serie di nomi Giovanni Cichella Marco Porreca Luca Montanari Roberto Benigni E appunto L'uscente Carlo Maggitti Avanti ancora Siamo Alla celebrazione Cento anni Dopo D'annunzio A fiume Passarella di Big Per l'impresa Del Vate Per la festa Della rivoluzione Nove giorni di spettacoli Convegni e letture Dall'Aurum Al Molo Della Madonnina E poi Le pagine di Monte Silvano Ovviamente ancora L'attenzione Al Giova Beach Party Ecco qui Iniziato il countdown Meno Dieci giorni Giova La riviera Cambia volto Pineta Chiusa Per due giorni Via Ai lavori Sul lungomare Rimosse le siepi E diverto il cordolo Della ciclabile La riserva Sarà presidiata Dalla forestale Per evitare Danni E accampamenti E poi ancora A città Sant'Angelo Alberghi B&B Verso il tutto Esaurito Allora Vediamo il servizio Realizzato ieri Dal TG6 Sui preparativi E sui lavori Iniziati Per il Giova Beach Party Sono iniziati Questa mattina I lavori Lungo la spiaggia Di Montesilvano Che ospiterà Il 7 settembre Il Giova Beach Party Tra qualche ora Inizierà anche Lo smantellamento Degli stabilimenti Balneari Sabbia d'Oro Hotel Prestige E Bagni Bruno Che entro giovedì mattina Dovranno aver liberato I lidi Da ombrelloni Palme Attrezzature Lavori che proseguono Già a buon ritmo Come assicura Anche l'assessore Alessandro Pompei I lavori Sono iniziati Questa mattina Per quello che riguarda La sistemazione Delle siepi E quindi anche Della preparazione Diciamo Delle vie di fuga Da quella che poi sarà L'affluenza Per il concerto Seguiranno nei prossimi giorni I lavori di allestimento Del palco E quindi anche Di sistemazione E livellamento Della spiaggia Gli stabilimenti a nord Quindi l'Hotel Prestige E Sabbia d'Oro Già dal 29 Dovranno sgomberare le aree Proprio per poter Permettere all'organizzazione Di iniziare A preparare Tutta l'attrezzatura Necessaria Per la realizzazione Del palco E di tutta l'area concerto La prima fase Prevede lo smontaggio Di tutto il lato a sud Della mia concessione Quindi di palmi Ombrelloni E il rimontaggio Di parte di questa attrezzatura Su una porzione Di spiaggia libera Che il comune Ci assegnerà Poi ci sarà Una seconda fase All'alba del 5 Nella quale Dovrò smontare tutto Il disagio vero Sarà per 4 giorni Perché poi il 9 Rimonteremo Praticamente Tutta la spiaggia I campi Leare gioco Perché l'estate Per noi Chiaramente non finisce Non finirà Il 4 settembre Lo facciamo con piacere Sarà per pochi giorni Lo dico E ci tengo a dirlo ancora Fino all'8 Noi già siamo di nuovo Operativi I miei clienti Sono d'accordo Ci vengono E ci guadagniamo Anche con una bella Riqualificazione Della zona Perché stanno già Facendo dei bei lavori Penso che la convenienza Sarà per tutto Sia per i turisti Che per noi Quindi molto ottimisti Per questo Vogliamo però fare Una precisazione Voi non verrete risarciti Dal comune di Montesilvano Sinceramente Non abbiamo sentito Niente Nell'organizzazione Poi sarà una cosa pubblica Quindi verrà anche pubblicato Per la trasparenza Non abbiamo risarcimenti Niente Proprio non si è parlato Di nulla C'è gente Che dice queste cose Ma non sappiamo Anzi lo sanno Più le persone Che non sono interessate Non che noi A nome della categoria Dico al sindaco Di sottolineare Questo sacrificio Che fanno i miei colleghi Balneari Perché smontare la spiaggia Dieci giorni prima Non è una cosa Un'impresa facile Lo facciamo Per il bene comune Per il bene di Montesilvano Per il bene di tutta La comunità abruzzese Perché un evento Di questo genere Non deve trovare ostacoli E noi siamo i primi Ad eliminare questi ostacoli Ho chiesto a Pino Ho chiesto a Elio Di fare questo sacrificio Loro mi hanno detto Ok Senza pensare Senza sì Senza ma L'obiettivo è Giovanotti Gioparti Montesilvano L'Abruzzo Entra nel circuito I grandi concerti Sempre sul centro Sempre a Montesilvano Via Roma Cantiere fermo E topi Nelle case La strada del centro Che porta al comune È in stato di abbandono E le magnolie Hanno raggiunto I balconi E poi A Francavilla Sosta selvaggia Sulla ciclo pedonale Fioccano le multe Le auto parcheggiate Ostacolano il passaggio I vigili intervengono Con rimozioni Per arginare Il fenomeno Proseguiamo E siamo In Val Pescara Popoli La segnaletica È carente Pericoli Sulle strade Del centro Un'associazione Raccoglie Le proteste Dei cittadini E chiede L'intervento urgente Del comune Gli automobilisti Non sanno Se devono fermarsi Agli incroci Le strisce Sono quasi Inesistenti Poi in taglio Basso Siamo a Penne Biblioteca I disabili Non entrano Abbattiamo le barriere Chiede a regione E comune Di intervenire Su questo caso C'è il servizio Del TG6 Realizzato Dalla redazione Di Vestina News Vediamo Questa che vede Alle mie spalle La biblioteca Comunale di Pene Inaugurata Lo scorso 22 di maggio Oggi torniamo a parlare Proprio di questo Perché L'associazione Abbattiamo le barriere Onlus Di Pene Ha notato Che da quando è stata aperta Non c'è la rampa Per l'accesso Ai disabili Allora andiamo a sentire I rappresentanti Proprio di questa associazione Sì Ancora una volta Appena ci troviamo Di fronte A delle aperture Non a norma Senza badare minimamente All'accessibilità Di tutti Essendo una biblioteca Essendo Diciamo Il diritto Allo studio Il diritto Alla cultura Un diritto Che aspetta a tutti Non vedo Perché oggi Noi appena Non possiamo Entrare in biblioteca Intanto Queste sono Le due mail Inviate Dall'associazione Sia al comune Che alla regione Abruzzo E a loro volta La risposta è avvenuta Solo dalla regione Abruzzo Che ha detto Di mettersi in contatto Col comune Per la realizzazione E l'abbattimento Di queste barriere architettoniche La risposta Alla regione Abruzzo Dove ci dice Che per loro Il problema Non sussisteva Però provvederanno Col comune A vedere La situazione Ma oggi Nel comune Nella regione Ci ha fatto sapere nulla Noi siamo Disponibilissimi A parlare Della possibilità Di poter Aiutare Gli esercenti O comunque Chi ha la volontà Di poter Rendere accessibile Ogni negozio Ogni piccola Attività Alle persone Che hanno Qualche difficoltà Motoria Penne siamo Abbastanza famosi Però siamo aperti Non solo a penne Ma anche Loreto Tutta la riavestina Se Voleste Aiutarci In questo Noi saremmo Felicissimi Di aiutare Con la nostra Collaborazione Noi ci siamo Siamo sempre attivati Con le Attività Con le raccolte fondi Proprio per Sensibilizzare Tutti quanti A un problema Che è Grande Cioè le Barriere architettoniche Perché anche se I nostri paesi Sono bellissimi Ma spesso Sono inaccessibili Pagine di Chieti Nel quotidiano Il centro La cronaca Una notte Di droga E furti All'asilo Nido In via Amiterno Tossicodipendenti Spaccano le porte Provano a rubare Cibo E saponi Poi lasciano Siringhe Birre Di biase Più controlli E poi ancora Fuori Oltre 100 bambini Dai nidi Comunali Non basta una struttura L'assessore Annuncia A ottobre Riapriremo Al Levante A piazza Carafa Si parte A fine anno E poi ancora Sempre la cronaca Distrugge L'auto Dell'amico Arrestato L'ite In via Degli Ernici Un 29enne In affidamento In prova Ai servizi sociali Finisce in carcere Dopo i vetri Sfondati E le minacce Con le forbici Poi in taglio Medio Palloncini E fiori bianchi Per l'addio A Mirco A Guardia Grele Folla Ai funerali Del 25enne Morto Nell'incidente Con il Quad A Farafiliorum Petri E poi ancora La settimana Medievale Si susseguono Gli spettacoli A Lanciano I falchi Sono tornati Sguardi all'insù E applausi Scroscianti Piazza Previscito Gremita Per i rapaci In volo Oggi apre il mercato Eno gastronomico E artigianale E ora Le pagine di Teramo Del centro Ricostruzione Arrivano 10 ingegneri In più Questo l'esito Dell'incontro Con il commissario Farabollini Il sindaco D'Alberto Sono state Ascoltate Le nostre Richieste Soddisfatto Il governatore Marsiglio Ha ottenuto Un risultato Importante Con L'aumento Dei tecnici Per i comuni L'USR Saranno Velocizzate Le pratiche E poi Taglio Basso Tornano Al lavoro Gli operai Detenute Unica In Abruzzo Una delle poche In Italia Ma è inutilizzata Dopo l'inaugurazione Di 4 anni fa Il direttore Aspettiamo Le decisioni Del ministero Intanto Una donna È reclusa In cella Con la figlioletta Avanti ancora Siamo a Silvi Il sindaco Incontra I cittadini Riqualifichiamo La zona Piomba Il nuovo Direttivo Del comitato Di quartiere Silvi Sud Si confronta Con l'amministrazione Comunale Previsti Nuovo polo Scolastico Impianti Sportivi Intanto Servono Lavori Su marciapiedi E strade Andiamo a chiudere Con le due Pagine Aquilane Ecco qui Giubileo Aquilano La festa Entra nel vivo Porta Santa Al via La 24 ore Del perdono Oggi il corteo Storico Della bolla Poi l'apertura E la messa Solenne Con due Cardinali Ecco come Orientarsi In città Centinaia Di Figuranti Amministratori Locali Sfideranno Nelle vie Del centro Storico Il comune Abolisce Le bottigliette Di plastica E vara I bicchieri Ecologici Alle 16 Prevista la partenza Da Palazzo Fibioni Strade Chiuse A partire Dalle 11 Mega Parcheggio Aperto Con una Gestione Provisoria Avanti Andiamo a chiudere Con Questa apertura Di pagina Pietra Giù dal monte Ferito Bimbo Di Otto Anni Paura Alla Trinità Di Vallepietra Il piccolo In pellegrinaggio Da Avezzano A Santuario Insieme ai genitori Colpito Al torace E tenuto In osservazione In ospedale Chiudiamo qui La prima parte Di mattino 6 Ora Spazio Alle previsioni Alle previsioni Del tempo Alla pubblicità E poi Rientreremo Con il messaggero La città E altri servizi Oltre che lo sport Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Siamo sul messaggero In attesa Del governo Ecco qua Crescita E trasporti Le nostre priorità Saraceni Della CNA Dice Necessaria Una soluzione Per il caso Pedaggi Malandra Della CISL D'accordo Con Confindustria Sulle reti Tenti Le associazioni Spingono Anche per l'avvio Dei cantieri Della nuova ricostruzione E poi In taglio basso Un castello Un paese Pescassero Lì Le rovine Che guardano La storia Dove oggi Sfrecciano Gli sciatori Il maschio E le torri Difendevano L'alta valle Del sangro Dagli attacchi Dei saraceni Proseguiamo Siamo alle pagine Di Pescara Fibra in centro Ruspe E disagi Per mesi Open Fiber Ha iniziato Da Via Venezia E gli scavi Per inserire I cavi ad alta tecnologia Per la connessione Internet a 4G Un tecnico del comune Controllerà Ogni fase dell'intervento Tempi studiati Al fine di evitare Il caos All'apertura Delle scuole Poi le parole Dell'assessore Sulpizio Il prezzo Da pagare Per il progresso Potremo potenziare Il nostro sistema Di videosorveglianza Sarebbero oltre 200 Le vie interessate Dal progetto Seguito per l'azienda Dall'ingegnere Stefania Di Pillo E poi ancora Cantieri Lumaca La strigliata La strigliata di Mascia I RUP Sentinelle Delle opere In corso Devono vigilare Sul rispetto Dei tempi Ha detto L'assessore Ai lavori pubblici Che ieri Abbiamo ascoltato Per il TG6 Nel servizio E nell'intervista Di Paolo Renzetti Assessore Massia Cantieri Lumaca Alcuni cantieri Fermi Città un po' Paralizzata Dai lavori Lei ha chiesto Un'accelerazione Anche ai tecnici Del comune Spieghiamo che voi Avete ereditato Molte opere Dalla precedente Amministrazione Io sono intervenuto Energicamente In questi giorni Perché Non è lecito Che la città Tolleri Rallentamenti Nei lavori Ci sono tanti Lavori in corso Che come ha detto Lei bene Sono stati ereditati Dalla precedente Esperienza governativa Sono lavori Che comunque Portano beneficio Alla città Ma non devono portare Assolutamente Disaggi alla città Quindi devono marciare Regolarmente Devono marciare Speditamente Ieri ho tenuto Varie riunioni Da oggi Sono a pieno regime Cantieri strategici Ne cito alcuni Quello di via del Santuario Quello di via Rigopiano Per intenderci La rotatoria In fondo a via Paolini Ma stanno riprendendo Tutti i lavori Via Caduti per Servizio In via Tavo In via Rubicone Con un'attenzione particolare Anche da parte Dei responsabili Unici del procedimento Che sono le nostre sentinelle Sul territorio Sono i dipendenti comunali Che hanno il compito Di vigilare Su questi lavori Dai lavori A corso Vittorio Emanuele Qualche settimana fa Lei aveva parlato Di una riflessione Dell'amministrazione comunale Per quanto riguarda La via più importante Della città A che punto è questa riflessione? Tornerà La riflessione È condizionata Da un incontro Importante Che avremo a breve Con i vertici Di tua Che devono ancora Fissare una data Per farci comprendere Soprattutto qual è Il destino del BRT BRT è il mezzo Di cui si parla Da tanti anni Che deve collegare Montesilvano Con la parte più a sud Della città di Pescara Riteniamo quel mezzo Strategico Anche ai fini Di corso Vittorio Emanuele Perché la possibilità Di dare Ai cittadini pescaresi Un mezzo Di Una metropolitana Leggera Che comunque Possa trasportare Un numero notevole Di persone Va ad alleggerire Anche il traffico urbano Siamo sempre sulle pagine Di Pescara Del Messaggero Il nuovo pronto soccorso E realtà Il manager Mancini Dice conto Alla rovescia Per l'apertura Sarà il più grande D'Abruzzo E uno dei più attrezzati Del centro sud Tre ingressi Per codici rossi I pazienti ordinari E bambini Enorme Lavoro di impiantistica E raddoppia L'ospis 2050 metri quadrati Di sale E ambulatori Con accesso diretto Delle ambulanze Dalla rotatoria Di via Monte Faito E poi Per la cronaca Travolto sulle strisce Da un giovane Senza patente È avvenuto Ieri mattina In via Leonardo Da Vinci La vittima Un 82enne Andiamo ora Sulle pagine Di Montesilvano Giova Parti Critiche Al taglio Delle siepi Le parole Del sindaco De Martini Serrano Arbusti secchi Verranno sostituiti Ma gli ambientalisti Fanno sentire La loro voce Di protesta Ruspe Operai Al lavoro Anche per livellare L'arenile Per il 7 settembre Pineta chiusa Domani si monta Il palco In mattinata A Montesilvano Era stata diffusa La falsa notizia Dell'abbattimento Di alcune palme E ora Le pagine Dell'Aquila Nuovo incidente Sul lavoro Sequestrata Ala del cantiere Operaio Si sporge Per raccogliere Un frutto E precipita Nel vuoto Da un'altezza Di 5 metri Il manovale Romeno Di 48 anni È molto grave Con fratture A gabbia toracica E spina dorsale Infortunio All'oratorio Salesiano Già al centro Di un'altra Vicenda Giudiziaria E poi ancora Schiacciato Dalla rampa Indagato Il fratello Daniele Risulta proprietario Del mezzo pesante Il funerale Probabilmente Oggi Pomeriggio Andiamo Avanti Ed è il Gran giorno Del perdono Oggi La sfilata Momento Più suggestivo Della perdonanza Poi Celebrazione Del giubileo E apertura Della porta santa Parteciperanno 600 figuranti Sono meno Del solito Malumore Per l'esclusione Delle associazioni Cittadine Il clou Dell'evento Sarà la lettura Da parte del sindaco Biondi Della storica Bolla papale E poi Il volo Regala La città Un concerto Da brimido E su questo Splendido concerto Abbiamo realizzato Ieri Un servizio Il servizio Del TG6 Per sempre Per me Sei Sei che non mi sbaglierei mai, vivi chi sei, che sei l'unico grande amore. Il trio del volo ha incantato il pubblico dell'Aquila davanti alla Basilica di Collemaggio. Serata molto emozionante, sia perché si è svolta durante le celebrazioni del 725esimo anniversario della perdonanza celestiniana, sia perché quest'anno ricorre il decennale del terremoto che sconvolse l'Abruzzo. Quando nella vita si ha la fortuna di fare il proprio lavoro, la propria passione, è sempre bello salire su un palco e poter cantare. specialmente in questi eventi dove la musica, pensiamo, sia un perfetto connubio con il rapporto e il dialogo che si ha con il pubblico. Gianluca, Abruzzese Doc, quindi immaginiamo che per te salire a cantare per la tua gente sia un'emozione ancora più grande. Sarà una grande emozione poter cantare questa sera per tutti gli aquilani, tutta la gente che ci segue ormai da dieci anni. Soprattutto qui, in questo evento poi così, un evento storico che è la perdonanza, cercheremo di trasmettere tante emozioni con la nostra musica e lo dedicheremo a tutti gli aquilani. Gira il mondo, gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia in cordone della gente come me. L'incasso dei biglietti, tutti venduti alla cifra simbolica di 10 e 15 euro, è stato totalmente devoluto al Conservatorio Alfredo Casella del Capoluogo per bandire borse di studio di specializzazione per allievi musicisti. I giovani sono il presente, quindi dobbiamo dare il massimo, è un grande contributo. Quest'anno sul palco sono giovani, tutti i orchestrali, i ragazzi, 18, 19, la nostra qualità e che vengono da tutti i conservatori d'Italia, quindi vuol dire che la musica fa tanto, la musica unisce e noi diamo il nostro contributo. Invece ad Avezzano, Sasso cade e colpisce un bambino, il minore di 8 anni era con il padre al Santuario della Trinità, meta dei Marsicani ai confini con il Lazio, poteva essere una tragedia, subito soccorso è stato portato all'ospedale, fortunatamente per lui nessuna grave conseguenza, dimesso dopo i controlli. L'episodio ha suscitato impressione tra i fedeli e le proteste dei genitori. Pagine di Chieti sul messaggero, drogati e vandali in azione all'asilo nido di via Amiterno, rilievi della scientifica, trovate garze usate in due grosse buste, il materiale da rubare. L'assessore Carla Di Biasse dice che l'edificio riaprirà il 2, pronti a installare un impianto di allarme. La scoperta fatta ieri in mattinata da insegnanti e personale del Comune. Poi ancora l'addio di spalla per Mirko Palloncini Bianchi e l'amore eterno di Cristina. Il sfortunato giovane Mirko Cocco di Guardia Grele scomparso a seguito di un incidente con il Quad a Farafigliorum Petri. Siamo a Lanciano, riapre il mercato coperto, ora è a norma, era stato sequestrato il 20 luglio. NAS e ASL avevano scoperto gravi carenze igienico-sanitarie, i lavori eseguiti dal gestore. Ora però è polemica perché sulla base del nuovo calendario la struttura resterà chiusa ogni lunedì, giovedì e domenica. In tribunale l'udienza sul dissequestro, il 10 settembre restano le frizioni con il Comune. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di Teramo. Mamma è legale al Ministero, alunna down avrà il sostegno, bambina senza insegnante specializzato. La madre in due anni nessun progresso, in terza media finalmente le è stata assegnata una docente qualificata. Una sentenza del Tar passata in giudicato aveva stabilito che la studentessa aveva diritto a un prof titolato. E poi di spalla, ecco qui Zora lascia Roseto e parte per il Veneto. La cagnolina ha vegliato la padrona morta per otto giorni, la sua storia è diventata virale. In basso terremoto, in arrivo più tecnici per elaborare, 100 pratiche al mese. E poi ancora a Giulianova, Porto, cena gourmet con chef stellati da domani. Calendario di iniziative che puntano su serate di grandi cuochi e sfide a quattro mani, eventi già sold out. Tavole rotonde su cambiamenti climatici e alimentazione sostenibile con professori universitari ed esperti del settore. Andiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ripartiamo da pagina 3 e dal fronte ricostruzione. Aumentate le risorse per l'USR di Teramo, l'ufficio speciale per la ricostruzione. Più tecnici e fondi destinati all'Abruzzo, che passa dal 10 al 15% del totale del sisma del centro Italia. Ieri l'incontro tra il commissario Farabollini, il governatore Marsiglio, il sindaco D'Alberto e il direttore dell'ufficio speciale Rivera. Andiamo ora a pagina 7, sempre a Teramo. Pericolo scampato per tre scuole materne, prorogati al 31 marzo 2020. Termini per presentare i progetti di miglioramento sismico degli edifici. Se il comune di Teramo prenderà l'impegno di eseguire i lavori entro il 31 agosto, riceverà l'anticipo del 20% del finanziamento e le strutture sono Miss Gioia nel quartiere della Gammarana, a quello di San Nicolò in via Brigiotti e poi a Villa Vomano, Mario Capuani. Andiamo ora su pagina 8, lavori lungo il corso. Udine come Teramo nel capoluogo friulano, il déjà vu per una ditta teramana alle prese con le pietre e gli scavi archeologici. Pagina 9, i cantieri del gas creano altri disagi in centro. In via Trento e Trieste ci vorranno mesi per ripristinare i sanpietrini. Largo Cellini è bloccata dal cantiere. Poi la cronaca va a fuoco, il tetto della fabbrica di pallet, incendio ai pannelli solari della Lesti Pallets di Sant'Atto, sventato dai tecnici e dai vigili del fuoco. E poi ancora la cronaca, incidente mortale, ancora tutto da chiarire, acquisite le immagini delle telecamere e dei negozi per ricostruire l'impatto del 48enne di Colonia a San Nicolò. Ecco qui la vittima dell'incidente, il 48enne imprenditore di Colonia Paese, Gianni Ettore. Avanti ancora, quando la disabilità diventa energia pura. Grande festa a isola per i 48 anni di Luca Gambacorta, tra musiche risate e lacrime di gioia con la sua gioia di vivere. Luca rappresenta un vero esempio per tutta la comunità. Qui siamo a Prati di Tivo, iniziata la posa delle campane anti-valanga, il sistema Oberx sarà pronto prima dell'8 dicembre. Di Buonaventura, il presidente della provincia, adesso pensiamo a Prato Selva. L'impianto, con una spesa di circa 1 milione e 200 mila euro per 10 Oberx, posizionati su piccole piattaforme, vengono installati a inizio stagione e possono essere rimossi quando non servono. Andiamo avanti, siamo a Torano Nuovo, in Val Vibrata, nuova vita per la Madonna delle Grazie, arrivano a 380 mila euro per la messa in sicurezza della chiesa di Torano. E poi ancora, sempre in Val Vibrata, ma ad Alba Adriatica aveva in casa un minimarket della droga, 32enne trovato in possesso di cocaina e hashish, arrestato dai carabinieri per spaccio. I militari si sono insospettiti dopo aver notato un continuo via vai di tossici nella abitazione. E ora lo sport, Teramo Speranza, adesso è tutto finito. La dirigenza ha comunicato al capitano di trovarsi un'altra squadra, ha preso il giovane Mangraviti, prima Amara per Bombaggi, l'ex Pordenone in campo domenica, poche ore dopo l'arrivo, passare dal giocare in Serie B a essere messo da parte è dura, ora serve lavorare insieme, la sosta può aiutare. E allora, sulla scelta nei confronti del ormai ex capitano Speranza e sull'ultimo arrivo, il giovane difensore dal Brescia Mangraviti, su questo e su altro ha parlato ieri nel corso della trasmissione pro Teramo il general manager bianco-rosso Andrea Iaconi, che era appunto ospite nei nostri studi, nella trasmissione di Jacopo Forcella. Allora, ascoltiamo, intanto all'inizio, proprio sull'innesto del giovane Mangraviti, arrivato in prestito dal Brescia. È l'unico prestito dei 24-25 giocatori che abbiamo, è l'unico prestito, gli altri sono tutti di proprietà. Ecco, che cosa vi ha convinto di questo ragazzo? Io l'ho visto crescere, era nei giovanissimi, ha fatto tutta la trafila, è un buon giocatore mancino, di prospettiva, infatti il Brescia lo dà solo in prestito, non c'è diritto di riscatto, non c'è niente, perché loro credono in questo ragazzo. Poi io lì, a Brescia, il direttore era il mio collaboratore e quindi me l'ha consigliato di riprendere. Ivan Speranza non fa parte più del progetto del Tè? No, Ivan Speranza l'ho parlato io personalmente l'altro giorno, ho spiegato i motivi, con molto rammarico, però abbiamo bisogno di cambiare. Vantino è una situazione che sto gestendo personalmente io, sa cosa gli ho detto, so cosa lui mi ha detto, io è stato il primo calciatore con cui ho parlato del vecchio Teramo, per cui io sarei felicissimo se lui rimanesse. Se dovesse andare via vuol dire che ci dobbiamo separare. Per noi il mercato in questo momento è chiuso, se dovesse succedere negli ultimi due o tre giorni che capita qualcosa di bello, cerchiamo di arricchire ancora di più la rosa, però penso che abbiamo fatto il massimo, il Presidente ci ha permesso di acquistare 20 giocatori, penso che sia una cosa... Sì. della sua ampia intervista, mi preoccupa il debito e la politica non ci è vicina, violenza e razzismo, niente più alibi per le società, la nuova norma sul falo di mano creerà solo equivoci, e lo si è visto anche in questa prima giornata di campionato, arbitri grave il problema di vocazioni, interveniamo, nicchi e all'ultimo mandato non c'è niente di personale, e poi i playoff in A sono, i playoff in A, una mano santa, sono un ascensore sociale. La prima della Gazzetta dello Sport, calcio mercato in evidenza, anche Sanchez, Inter, altra dinamite per Conte in prestito dal Manchester, ritrova Lukaku dai nerazzurri, 5 dei 12 milioni di ingaggio, oggi sarà Milano, Icardi, io resto lo stesso. E poi verso Juve-Napoli, Di Bala ci crede, vuole prendere il posto di Higuaini, Insigne è tornato, ora può battere il tabù bianconero, Giampaolo cambia e mette Benassere nel cuore del Milan, e poi per il calcio mercato sul fronte internazionale Neymar rilancio o rimane al Paris Saint-Germain. Andiamo sulla prima di Tutto Sport, che apre così, non è mai troppo Icardi, Zang e Marotta hanno incontrato Maurito per ribadirgli che lo considerano fuori dal progetto dell'Inter. La Juve non molle, aspetta gli sviluppi del caso. Il Napoli spera, ma ha fissato nella giornata di domani l'ultimo termine per chiudere l'affare. E poi sotto la testata, Toro, l'ora di L'Axalt, preso Milanetto, talent scout per l'estero. Andiamo ora sui quotidiani locali, e dunque torniamo sul centro. Ecco qui, Serie B, le trattative che riguardano il Pescara, Pescara-Matos a Milano. L'atto finale, oggi vertice con l'agente dell'esterno offensivo brasiliano dell'Udinese, bloccato Ingelson, ma si aspetta anche Torsby. Poi Sebastiani atteso nel capologo Lombardo, pressing sul baby Millico del Torino. Il passaggio di De Miral al Milan sblocca il difensore, Gabbia al Delfino. Poi leggiamo nel notiziario, Balzano in dubbio per il Pordenone, Zappa, Scalpita, Bettella, Dolorante. Poi in basso, altre considerazioni sul fronte mercato. Marras è subito di russo per Zauri, l'esterno è sul mercato, ma all'allenatore non dispiacerebbe tenerlo in rosa. Per la Serie C, scatto del Teramo, preso Mangraviti, Speranza è ai saluti. Arriva dal Brescia il ventunenne difensore Mancino, sfuma l'ipotesi Cosenza, il capitano è fuori dal progetto. E poi per il campionato di eccellenza, questo inaspettato cambio in panchina con Lucarelli che prende il posto di Del Grosso. E con le parole di Alessandro Lucarelli, voglio continuare a crescere con il Lanciano. È stato presentato ieri nel tardo pomeriggio. Serie D inizia l'era Del Grosso, tutto all'improvviso, ma è un grande onore. Il terzino diventa l'allenatore del Real Giulianova, ci sarà da lavorare, però confido nell'aiuto dei tifosi. In taglio basso, Passarella Vastese, stasera la presentazione, tifoseria in fibrillazione per il debutto. Si attendono le disposizioni di ordine pubblico in vista del derby. E poi ancora per il basket digno, mister Muscoli degli Sharks, punto su Nicolic e Menalo. Il nuovo preparatore atletico del Rosetto, dice Pieric, professionista esemplare, per me grande chance. E poi ancora il cinquantennale della morte, la vita e il mito di Marciano in 15 riprese. Sabato pomeriggio Ripa Teatina ricorderà con uno spettacolo teatrale il campione di pugilato morto nel 1969 a 46 anni. Rapidamente anche le due pagine di sport del messaggero. Ecco qui, sempre calcio mercato in primo piano. Pescara aspetta Matos e Gabbia. Mister Zauri ora spera nel brasiliano dell'Udinese e nel centrale del Milan. A centrocampo nel Merino, Valzania o Pessina dell'Atalanta. Urgono tre rinforzi. E poi il tecnico del Pineto, Epifani, che lo scorso anno col Fano in Serie C ha affrontato il Pordenone. Epifani appunto avvisa. Ecco i segreti del Pordenone. In basso per il calcio a 5, Acqua e Sapone, Palarigo Piano sarà la nuova casa. Il patron ringrazia il comune di Pescara per l'ospitalità. Saremo molto forti. Tombesi, la prima è ancora in dubbio. Ortona dovrà affrontare la Lazio, che è stata ripescata in Serie A. E poi per la Serie C, Teramo, ciao Speranza. In difesa c'è Mangraviti. La società ha comunicato al capitano che le strade si separano dopo tanto tempo e si corre ai ripari con il centrale 21enne nella passata stagione con il Gozzano in Serie C. E poi per la Serie D, Giulianova, perdon, del grosso. Giulianova, doppia responsabilità. Il nuovo trainer sono felice e il patron Bartolini dice non è un ripiego. I fosi del Chieti a Vasto deciderà l'osservatorio, contrariamente alla gara di Coppa deciderà l'organo federale. Oggi presentazione della squadra. E poi l'Aten è un roseto giovane ma non sproveduto, chiaramente, per il basket di A2. È tutto per questa edizione odierna di Mattino 6 che tornerà ovviamente domani mattina alle ore 8. Io vi ricordo gli appuntamenti informativi del TG6 nelle tre edizioni principali delle ore 14, 19 e 23. Ringrazio in regia Loris Bennato e ringrazio a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.